ciao amici ciao ragazzi ciao ragazze vi salutiamo dal passo di lagastrello tra Emilia Romagna e Toscana siamo in provincia di Reggio Emilia e tra poco andremo a vedere la fortezza di Castello di Sarzanello stiamo vivendo qualcosa di caldo ovviamente fa freddo prima volta che tieni la camera Flavia per quel pazienza ragazzi adesso vi faccio vedere un po' i colori dell'autunno anche se è un po' buio però qualcosa si dovrebbe vedere rosso molto fascinante anche se non c'è tanta luce perché è nuvoloso dopo scendiamo al mare Castello è già dopo al mare l'erici e speriamo di fare belle foto con bel sole buona domenica a tutti come sempre gas 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 sempre in moto ciao